Coach Ceccarelli a rischio esonero? È stato uno dei temi principali della puntata di ieri sera di Zona Sport. La crisi della Sigeco Basket Piacenza, due pesanti sconfitte a fronte di una sola vittoria nelle prime tre gare di campionato a due, è stata ampiamente analizzata dagli ospiti intervenuti in studio da Marcello Tassi. L'impressione è che la sfida esterna con Imola, ancora secco di punti, possa rappresentare il classico match da dentro e fuori per il tecnico dei Piacentini. Se dovesse arrivare una sconfitta, infatti, la società di Patron Curlioni potrebbe optare per un clamoroso cambio di panchina. I giocatori lo sanno e per questo vogliono subito fornire risposte concrete già da domenica. Vogliamo riscattarci a tutti i costi, abbiamo già iniziato da ieri a lavorare e quindi siamo sicuri di andare là con una notevole carica e di portare a casa questa partita che è fondamentale per tutti. Nel corso della trasmissione, ampio spazio anche a pallavolo e rugby con l'analisi delle sfide del fine settimana appena trascorso. Le repliche della puntata del martedì di Zona Sport vanno in onda su Tele Libertà ogni mercoledì alle 9 alle 23 e ogni giovedì alle 18. Venerdì prossimo, come sempre alle 20.30, nuova puntata con la presentazione dei match in programma nel fine settimana. Grazie a tutti!